Un documento ambizioso ma realistico che affronta i problemi principali del Paese e delinea un percorso di rientro dai deficit accumulati negli anni recenti. Così il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha definito in audizione in Commissione Bilancio il piano strutturale di bilancio di medio termine. Se da un lato l'andamento delle variabili economiche appare in linea con le attese, dall'altro l'allargamento dei conflitti in atto sta alimentando ulteriormente l'incertezza dello scenario economico globale, incidendo sugli investimenti delle imprese e sulle spese dei consumatori, ha spiegato il Ministro. Il Governo ritiene di poter conseguire una riduzione rapida del rapporto tra indebitamento netto e il PIL per portare l'Italia al di fuori della procedura di deficit eccessivo a partire dal 2027. Al percorso di correzione strutturale individuato lungo i sette anni di aggiustamento corrisponde un tasso di crescita medio annuo della spesa netta pari a 1,5% che è in linea con quello della traiettoria di riferimento della Commissione. In primo luogo, la manovra di bilancio che presenteremo nelle prossime settimane fornirà le risorse necessarie a confermare gli interventi ritenuti prioritari. Tra queste rientrano soprattutto le misure necessarie a rendere strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale sul lavoro e l'accompamento delle aliquote IRPEF su tre scaglioni già in vigore per l'anno in corso, nonché interventi finalizzati a favorire la natalità e a fornire un sostegno alle famiglie numerose.